Paul ha chiesto la maglia numero 10 e avrà la numero 10 perché è un senso di responsabilità perché vestire questa maglia e soprattutto per il numero non è assolutamente semplice visto che l'hanno vestito i grandi giocatori della Juventus Pumano ha fatto giocare in una partitella mi sembra da trequartista ma io credo che il suo ruolo sia la mezzala, mediano sinistro, mediano destro e magari il futuro finirà per giocare davanti alla difesa Oggi Barzali lavorerà con la squadra quindi avremo un infortunato o meno per quanto riguarda il modulo lo deciderò, valuterò ma cambia poco tra i 3 e i 4 l'importante è cercare di affrontare la partita cercando una buona partita farà molto caldo bisognerà pensare di poter arrivare al 120esimo come è successo il 20 maggio abbiamo solo 20 giorni di preparazione però la squadra credo che sia in una buona condizione fisica Sinceramente non ho pensato e non ho questo tipo di desiderio perché l'anno scorso sia quando abbiamo giocato a 4 sia quando abbiamo giocato a 3 io penso che abbiamo sempre fornito delle buone prestazioni il comune denominatore è stato che quasi sempre abbiamo vinto per cui credo che non sia il modulo a determinare o che determinerà la vittoria o meno di dopo domani ma saranno tanti altri fattori quando si gioca una partita secca i valori si assottigliano molto e ci sarà molto equilibrio c'è stato equilibrio nella partita del 20 maggio a Roma di conseguenza ci sarà equilibrio anche sabato ma questo credo che sia normale abbiamo cambiato diciamo almeno metà dell'ossatura della spina dorsale della squadra dell'anno scorso rinnovando e ringiovanendo io credo che in un'annata come questa ci siano tanti stimoli per non avere rimpianti alla fine grazie a tutti Grazie a tutti